iniziamo la conferenza calicchia roma tv salve mister cambiano gli interpreti della difesa ha utilizzato quattro coppie di centrali differenti fino a questo momento la roma è la squadra che ha la migliore difesa del campionato è la squadra che ha mantenuto per più volte la porta inviolata ha subito zero gol in trasferta ed è l'unica in europa significa che il meccanismo di tutta la squadra che funziona significa che dobbiamo migliorare dentro casa dobbiamo prender meno al di là di questo aspetto io credo che non si lega solo un discorso dei quattro difensori di una linea difensiva che ha avuto secondo me un ottimo atteggiamento facendo spesso bene o perlomeno sbagliando meno ma di un concetto di squadra generale dove quando siamo bravi a dare le pressioni indirizzare anche una giocata ci permette di poter leggere meglio le situazioni di difendere tutti quanti meglio insieme per quello il merito principale va dato non a un reparto ma al blocco squadra che si muove una determinata maniera buon pomeriggio mister a che punto sono chic e karsdorp karsdorp domani giocherà titolare chic invece deve ancora proseguire un po il suo percorso di crescita passogna sky sport stiamo giustamente celebrando la solidità della roma negli ultimi 180 minuti parlo di campionato napoli torino anche il pragmatismo dopo otto giorni lei ha chiesto una vittoria sporca in un momento un po di fatica e la roma ha dato un'ottima risposta c'è un altro aspetto però meno positivo contro napoli torino avete creato molto poco in in area di rigore avversaria prova a mettere qualche elemento deve migliorare la roma nella ricerca del pallone pressing più verso l'area avversaria deve migliorare un po il coraggio dei centrocampisti di entrare in area di rigore deve migliorare il coraggio degli esterni d'attacco nell'uno contro uno sono elementi che potrebbero in qualche modo dare ricchezza alla fase offensiva della roma ti rispondo sui primi dati la roma è la squadra che fa più duelli uno contro uno e li vince in tutto il campionato per quello questo deve dare continuità gli elementi che toccato sicuramente siamo andati col torino siamo la seconda squadra del campionato che va più al cross dopo l'inter per quello mette tanti palloni dentro area per quello ci arriviamo dall'altra parte bene dove bisogna migliorare per cercare più i gol e di accompagnare un pochino meglio le situazioni di gioco con i centrocampisti con gli esterni andare un pochino meglio a riempire l'area di rigore questo sì ma noi ci arriviamo poi pragmatismo sì ma col torino abbiamo avuto più del 65 perlomeno vicino al 65 per cento di possesso palla avendo creato tante situazioni pericolosi ma avendo nell'ultimo passaggio in ultimi 20 metri sbagliato qualcosina di troppo questo ma quando tu ci arrivi sono tutti segnali positivi non ritengo che sia una vittoria sporca come contro l'atalanta perché con l'atalanta abbiamo creato per me poco o niente ma col torino siamo arrivati spesso in certe situazioni dove dovevamo e potevamo far meglio sono vittorie differenti questa secondo me è costruita un pochino più sul gioco e sulla mentalità essendo anche un pochino più avanti con l'aspetto sia del gioco che anche di aggressioni alte per il resto siamo avanti con il napoli il secondo tempo abbiamo preso un palo e una traversa il che significa che ci siamo entrati dentro l'area e magari con un pizzico di determinazione in più potremmo fare qualcosina di meglio per quello col celsi abbiamo creato tantissimo siamo a ridosso di quello che tu dici una settimana una settimana in cui la squadra poteva far meglio davanti ma ha dimostrato grande solidità e questo è un sinonimo è un segnale anche di essere diventati un pochino più squadra è squadra importante poi una cosa sul turnover che sta diventando una sanissima abitudine le volevo chiedere se la squadra potrebbe sopportare anche un turnover relativamente a Kolarov e Dzeko in questo momento credo che in questo momento nessuno dei due li lascerò in panchina ancora per l'ennesima volta a partire anche dalla partita di domani perché ritengono che siano dal punto di vista della della anche dell'atteggiamento del modo di giocare ma anche una questione fisica e mentale possano ancora giocare questa gara col crotone poi prima di bologna valuterò di carlo media buongiorno di francesco volevo chiedere in quest'ottica di di turnover lei è un tecnico che abituato a pensare giornata dopo giornata o il fatto di avere in calendario tra qualche settimana una gara come roma celsi la mette nelle condizioni di modulare questo turnover per avere poi quel giorno la la formazione chiamiamola titolare migliore possibile ma io cerco di mettere in campo sempre la la formazione migliore possibile non ho parlato di titolare perché quando si gioca spesso bisogna valutare tante cose condizione fisica l'abitudine a sopportare dei carichi di lavoro di partita una dietro l'altra le situazioni individualmente spesso sono differenti però scenderà in campo col crotone la squadra che ritengo migliore per poterla battere e a seguire tutti il resto per quello io credo che noi abbiamo un obiettivo importante in questo momento che è il campionato due partite da portare a casa sei punti con due squadre vi assicuro partite mai facili col crotone che ha disputato ha dimostrato col tempo di essere una squadra che ha fatto un miracolo l'anno scorso con un allenatore molto preparato per quello io oggi come oggi penso al crotone e credo che sia la partita la prima difficile da vincere Stoppini la gazzetta dello sport Ecco ci salve io volevo chiederle qualcosa a proposito del caso del giorno gli adesivi in curva sud volevo chiederle un suo pensiero al riguardo e se non crede visto che insomma sono episodi che più o meno si ripetono nel corso degli anni i burazzisti i cori per discriminazione territoriale gli ultimi gli adesivi se non crede che ci sia anche una componente di responsabilità da parte delle società nella mancata voglia o scarsa capacità di allontanare i responsabili di questi episodi Ma innanzitutto credo che ci siano le istituzioni competenti che si debbano occupare di questo spesso si punta il dito su un qualcosa o quell'altro ma io credo che sia una questione da uomo dico culturale è assurdo oggi come oggi parlare di antisemitismo magari con qualcuno che non ha vissuto in quel periodo determinate situazioni io oggi posso dire come uomo come personalmente lo sopito di Francesco che mi sento anche io Anna Frank questa è la mia risposta un po' a tutto quello che è accaduto in questi giorni ritengo che sia un'assurdità Menghi il tempo Buongiorno Allora in conferenza dopo Torino ha detto che sta preparando la squadra all'ingresso di Schick ed è anche per questo motivo che ha fatto giocare prima Gerson e poi Nainggolan nel tridente Ma l'ho detto io? Sì Sto preparando Schick Ha confermato un po' questa sensazione Io le chiedo quindi Schick nella sua testa in questo momento giocherebbe al posto di Nainggolan e Gerson avendo quindi caratteristiche più fisiche magari come esterno oppure sta pensando a un attacco con Schick e Dzeko ed è per questo motivo che per sopperire al peso di un attacco così importante giocherebbero insieme a loro Gerson e Nainggolan Grazie È complicato Che complessità No So dove volevi arrivare perché tante la domanda è un po' che volevano tutti l'hai fatta a te per tanti altri no? Schick dove lo faccio giocare? Innanzitutto Schick si deve mettere a posto deve trovare una condizione adeguata poi per me può giocare in qualsiasi ruolo è come un po' quello che ho fatto in questi giorni magari sorprendendovi su alcune scelte per quello Schick potrebbe essere una sorpresa dove lo potrei mettere ma non deve cambiare la filosofia l'idea di gioco di questa squadra è la mentalità questo credo che sia la cosa più importante il desiderio di essere una squadra corta aggressiva e giocare in avanti poi vedremo dove metteremo Schick che ritengo che sia un ottimo calciatore ma che deve ritrovare ancora una buona condizione fisica è con noi, si sta allenando con continuità non è ancora al top, non è al meglio per quello sicuramente non giocherà dal primo minuto però pian piano lo metteremo dentro perché credo che possa essere per noi un valore aggiunto Pastore Romanista Buongiorno prima ha annunciato l'utilizzo di Karsdorp scusa prima ha annunciato l'utilizzo di Karsdorp nella partita di domani e con il prossimo rientro anche di De Frel il versante destro rischia di avere abbondanza sia in difesa che in attacco a quel punto dove prevede l'utilizzo di Florenzi? Florenzi ha dimostrato con i risultati e anche con gli atteggiamenti di poter giocare basso e alto per quello anche in base alle partite e in base anche alla condizione generale di tutti potrà giocare innanzitutto Alessandro è un altro giocatore che viene da dieci mesi di stop per me ha giocato in questo periodo anche tanto rispetto a quello che erano un po' le prospettive o magari quello che si pensava sono contentissimo del suo rendimento è ovvio che è un giocatore che fa fatica a sopportare una partita dietro l'altro in base poi agli avversari deciderò dove sfruttarlo e dove poterlo mettere io non credo che in questa Roma ci sia stata mai abbondanza mi auguro che ci sia il fatto che tutti possano star bene e venire fuori da tutte le complicazioni delle infortuni che abbiamo avuto poi di Florenzi ci preoccuperemo successivamente perché non deve essere un problema ma un valore aggiunto come lo sarà Schick Dubaldo, il Corriere dello Sport Ciao, buon pomeriggio ho trovato molto bello la frase che hai detto sono anch'io Anna Franca ma vorrei sollecitarti ancora su questo argomento e oggi il Presidente della Lazio Lutito ha annunciato che organizzerà dei viaggi nei luoghi tragici del razzismo per i giovani tifosi ecco trovi che sia un'iniziativa importante e l'altra cosa che voglio chiederti tornando a parlare più di calcio se nell'emergenza anche la difesa recupererà presto i suoi uomini per sapere quando saranno pronti Fazio e Manolas Parto dall'ultima così facilitiamo dico che Fazio potrebbe essere anche disponibile per domani lo valuteremo oggi nell'ultimo allenamento che sarà il test più importante di tutti per lui ieri non si è allenato con la squadra se dovesse oggi dare delle risposte positivi sarà sicuramente della partita per quanto riguarda Manolas l'obiettivo sarebbe quello di poterlo avere disponibile con il Chelsea per quello che balliamo tra Chelsea e Fiorentina il percorso che sta facendo è ottimo siamo tutti ottimisti per questo contentissimo dell'iniziativa di Rotito magari ci andrò anche io volentieri insieme a tutti quanti loro perché credo che sia una questione come ho detto prima di cultura e per avere cultura bisogna sia studiare o perlomeno affrontare le situazioni del passato e viverle per quello che è stato realmente qualcosa di tragico a suo tempo Parisi, Centrosuono Sport Buongiorno mister lei è diventato allenatore della Roma esattamente quattro mesi fa era il 13 giugno le chiedo come a scuola una pagiata, una valutazione su questo primo quadrimestre alla guida della Roma e a che punto è la Roma di Di Francesco? Grazie, tipo un compleanno non lo sapevo no, sono molto contento soddisfatto fino adesso di quello che la squadra, il gruppo che mi sta dando nell'insieme generale e anche l'ambiente credo che siamo cresciuti tantissimo non è perché veniva un momento difficile perché la squadra ha ottenuto l'anno scorso un grandissimo secondo posto però in Europa, un po' anche in campionato nonostante qualche battuta dal resto l'idea e quello che volevo un po' trasmettere in generale sta passando e credo che questo per me sia la cosa più importante quello che invece è che adesso sono quattro mesi ma non sono niente per me perché c'è domani un'altra partita importante e la continuità che dobbiamo avere e forse non è stata sempre così sia in campionato che in Coppa dare continuità di atteggiamenti e di prestazioni perché poi sono convinto che alla fine i risultati arriveranno di conseguenza per quello voti non ne do ma sono contento di quello che sono stati i primi quattro mesi ma non mi accontento Sonnino, Radio Radio Salve mister io mi ricollego a questa sua risposta le chiesi tempo fa quanto c'era quanto si poteva migliorare questa Roma e lei mi rispose moltissimo ad oggi quanti margini di miglioramento ha questa squadra cioè la Roma di Di Francesco è questa che stiamo vedendo che sta piano piano trovando continuità i risultati o lei si aspetta e pretende ancora di più? Pretendo di più perché secondo me possiamo dare maggiore continuità a quello che facciamo anche durante le partite tornando anche a quello che facciamo per i 90 minuti a volte rallentiamo o perdiamo quelle che sono tantissime possibilità per poter sia far male agli avversari o per essere un pochino più aggressivi in avanti questo è un lavoro che si guadagna un pochino con il tempo per quello manca ancora manca ancora mancano ancora alcuni giocatori che non sono entrati in determinati meccanismi e che stanno pian piano entrando partiamo da Karzop che magari domani giocherà la prima partita da titolare si è allenato con noi ma ovviamente non ha avuto il tempo di assimilare tanti concetti rispetto a quello che hanno fatto magari altri giocatori come lo stesso Moreno che ha giocato una partita per la prima volta da titolare ha ammesso lui stesso che lo dicevo anch'io che era prima abituato a giocare molto con l'uomo adesso invece deve lavorare con la palla che sono totalmente due cose differenti non so se per voi capite quello che intendo però a livello tecnico-tattico e ci vuole nell'assimilare chi assimila prima e chi assimila un po' più tardi mi auguro che Rick Karzop riesca ad assimilare prima possibile determinati concetti Cotumaccio, Reca Sparta Buon pomeriggio mister De Rossi e Gonalon sono due centrocampisti con molta esperienza ma anche con qualità differenti, caratteristiche differenti magari con De Rossi si tende a difendere meglio con Gonalon a costruire un po' di più con dinamismo le chiedo c'è la possibilità di vederli in campo insieme? Grazie C'è stata questa possibilità con Napoli quando avevo fatto una determinata scelta non l'ho fatto per altri motivi però mai dire mai oggi come oggi no domani no poi vedremo magari qualche altra gara domani giocherà l'uno, giocherà l'altro prego Facciamo l'ultima Trinca Teleradio Stereo Salve mister buongiorno Gerson e Undar si sono disimpegnati bene nelle ultime due gare io le chiedo se quella di domani potrebbe essere la partita giusta per vedere almeno uno di loro due in campo dal primo minuto Potrebbe magari tutte e due insieme grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti